Sì, rappresentanza di 30 paesi, ci saranno atleti che arrivano felici di correre a Palermo perché per loro correre a Palermo è una vera e propria festa. La truppa più consistente sarà quella che arriverà dalla Francia, dal Belgio, ma ci sono anche corridori che arriveranno da lontano il Giappone, dall'Austria e anche dall'Argentina.